Valentina Pepe, partner dello studio legale Pepe e Associati, prego, Olimpio Stucchi, managing partner di Uniolex, Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL, benvenuta, sì liberamente, buongiorno, benvenuto, buongiorno avvocato, benvenuto, Giuseppe Ippolito, responsabile relazioni industriali gruppo IREN, buongiorno, benvenuto, Simone Cagliano, esperto fondazione studi consulenti del lavoro, buongiorno e benvenuto, sì prego, ecco è stata diciamo una mattinata ricca di spunti e contenuti e sono sicuro che sarà altrettanto stimolante questa tavola rotonda in cui parleremo di futuro del mercato del lavoro partendo però dalle ultime novità normative, attraverso il confronto appunto dei nostri relatori che rappresentano il mondo professionale, il mondo imprenditoriale e i sindacati. Ecco il focus non può che essere sul decreto dignità che come sapete ha rivoluzionato il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore in termini soprattutto di flessibilità. Vedremo quindi quali sono gli effetti di questa normativa sull'occupazione in generale e sull'occupazione giovanile in particolare e lo spunto ci è dato anche dall'attualità e quindi dagli ultimi dati Istat da cui partiremo e che hanno reso una fotografia un po' diciamo inaspettata riguardo all'andamento dell'occupazione perché il dato più importante è che l'occupazione secondo l'Istat a marzo ha raggiunto quota 58,9% che è il tasso più alto registrato dal 2008 a oggi ma soprattutto è aumentato all'occupazione stabile che rappresenta un po' il cavallo di battaglia del decreto dignità e vedremo questi dati soprattutto anche in un'ottica di medio e lungo termine insomma come possiamo interpretarli. Parleremo poi di contrattazioni di secondo livello quindi di deroghe e di come insomma le imprese possono fare per diciamo ovviare a tutti i paletti imposti dal decreto dignità e parleremo poi anche delle iniziative che possono incentivare lo sviluppo dell'occupazione e di nuove competenze professionali. Ecco io partirei subito da lei, Avvocato Pepe, prego, e le chiedo anzitutto insomma quali sono gli strumenti a disposizione delle imprese per favorire l'ingresso di giovani e anche in questo caso gli ultimi dati Istat possono fornire uno spunto interessante, prego. Assolutamente, se noi guardiamo alla normativa degli ultimi anni in realtà non vediamo l'introduzione di forme e strumenti contrattuali specificatamente mirati a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Gli strumenti contrattuali restano quelli tradizionali, il contratto a termine in primis, l'apprendistato, il contratto di lavoro intermittente. Forse gli spunti più interessanti nell'ultimo periodo li vediamo nell'ambito della formazione, quindi la crescente attenzione che c'è rispetto allo sviluppo delle competenze mirate dei giovani per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. Pensiamo all'alternanza scuola-lavoro, agli stage, ai tirocini, pensiamo alla garanzia giovani, il grande progetto europeo rivolto ai net, i lavoratori under 30 che non lavorano e non studiano. Un altro tema interessante, non nuovo, ma che sta tornando di attualità può essere quello della staffetta generazionale. È stato recentemente reso operativo un accordo del settore bancario dove è prevista la possibilità per gli under 60 di accedere a forme di riduzione di orario part time senza penalizzazione contributiva e anche con un'integrazione retributiva con corrispondenti assunzioni di quote di giovane popolazione aziendale. In questo quadro in realtà emerge che ad oggi il lavoro giovanile viene sponsorizzato e promosso sostanzialmente con due misure, gli incentivi e gli sgravi contributivi rivolti all'occupazione stabile e quindi all'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 e la restrizione al contratto a termine e alle forme flessibili in generale. Ma se dovessimo chiederci se questa è la risposta adeguata alle nostre esigenze qualche perplessità l'abbiamo. Lei faceva giustamente riferimento ai dati Istat. I dati Istat di marzo 2019 ci danno un quadro nel quale la disoccupazione pare essere scesa è aumentata l'occupazione recuperando un dato dell'agosto 2018 e che addirittura la disoccupazione giovanile sarebbe ai minimi al 30% un dato che non si registrava dal 2011. Però questi dati a mio avviso vanno contestualizzati perché sempre i dati Istat pubblicati nel 2019, nella prima del 2019, nell'ambito del rapporto con gli altri Stati europei ci dicono che in realtà la disoccupazione giovanile al 30% in Italia è più che doppia rispetto alla media europea che è del 14% e l'Italia è fanalino di coda seguita soltanto da Spagna e Grecia. Quindi in questo contesto effettivamente molte perplessità e zone d'ombra dalla nostra attuale normativa del lavoro. In primis il decreto dignità ma pensiamo anche alla problematica delle tutele crescenti, la sentenza della Corte Costituzionale che oggi di fatto può rendere più oneroso un'assunzione di un nuovo assunto, licenziamento di un nuovo assunto rispetto a una tutela dell'articolo 18. Pensiamo anche alla prevista riforma sul lavoro domenicale festivo, la popolazione più colpita dovrebbe essere quella femminile e dei giovani. Pensiamo anche alla recente problematica sul mondo del lavoro che cambia, sulla gig economy, sui lavori delle piattaforme digitali. Sicuramente si tratta di tutto uno scenario che va inserito e contestualizzato in un contesto di mutamento della struttura del mercato del lavoro. Quindi pensare che la risposta possa essere una restrizione al lavoro flessibile e la spinta agli incentivi al lavoro a tempo indeterminato, oggi forse non è più la soluzione ma bisogna guardare nuove forme di tutela non del posto di lavoro ma dei giovani nel mondo del lavoro. certo, peraltro insomma anche le politiche di incentivo di assunzione degli under 35 poi sono state diciamo prorogate dal decreto dignità per gli under 30 però questa norma leggevo oggi ancora manca il decreto di attuazione. Assolutamente. Quindi avvocato Stucchi io le chiedo invece se può farci un confronto tra un prima e un dopo un decreto dignità perché chiaramente insomma la strada che ha tracciato il decreto dignità è stata completamente diversa da quella dei governi precedenti in termini sia di flessibilità aziendale e appunto di possibilità delle imprese di puntare sui giovani. Allora, il decreto dignità tra breve spegne la prima candelina. È stato sviscerato ampiamente e sono state fatte tutte le valutazioni possibili. Non ho sentito alcuna valutazione positiva se non da parte di chi lo ha voluto. In effetti il decreto dignità è un ritorno al passato per la gran parte e non va certo nella direzione di aiutare e le imprese e il lavoro perché non dimentichiamoci che oggi l'interesse dell'impresa coincide con l'interesse del lavoro. Cioè l'impresa deve creare lavoro e i lavoratori hanno così interesse ad avere più posti di lavoro. Il decreto dignità in effetti ha stretto tutte le strade possibili della flessibilità. Dai 36 mesi a causali sul TD che avevamo siamo scesi a 12. Un'eventuale prosecuzione non arriverà più ai 36 mesi come prima, arriva un massimo di 24, ma i 12 successivi sono comunque soggetti alle causali che assomigliano molto a quelle del 62. Ridotto il numero delle proroghe, come dire, un ritorno al passato. Ci sono dei dati però che sono veramente importanti e che vanno considerati. Sono dei dati ISTAT. L'accesso al mercato del lavoro da parte dei giovani viene fatto per tre quinti, quindi per più del 60% tramite lo strumento del TD e della somministrazione. Il 54% TD, l'ingresso dei giovani in mercato del lavoro, si fa tramite TD principalmente. L'apprendistato è una misura del tutto residuale perché viene utilizzata nella misura del 7%. ragione per cui l'esito è stato che l'ecreto dignità è andato contro esattamente quello strumento che serviva per fare entrare i giovani nel mercato del lavoro. Quindi contro il TD, contro la somministrazione. Che dire, si voleva combattere il precariato, nella realtà l'esito del decreto dignità è che oggi le aziende utilizzano il TD a causale per 12 mesi. Dopodiché cessa il rapporto risultato. E chi lavorava con TD si trova spasso e si troverà in ASPI e dopo in reddito di cittadinanza. Come dire, si voleva arrivare alla stabilizzazione e in realtà c'è una maggiore precarizzazione. Perché prima TD o somministrazione arrivavano a un massimo di tre anni, adesso a un massimo di un anno. E poi i giovani sono spasso. Quindi c'è stato un aumento, cioè in prospettiva ci sarà un aumento del turnover da parte delle imprese. C'è un dato IMSS di inizio anno. Hanno fatto una valutazione tra, comparativa sui primi due mesi, tra TD e somministrati iniziati nel 18 e iniziati nel 19 e conversioni in rapporto di lavoro subordinato. Il risultato è stato meno 100.000 posti di lavoro. Questa è la situazione. Quindi insomma si può dire che appunto il decreto dignità al momento non ha portato nuova occupazione. Mi concentro su di lei, ben ti vogli, e le chiedo qual è il suo punto di vista e qual è la sua percezione riguardo anche alle strategie di imprese che vengono utilizzate per i lavoratori e per le assunzioni. E appunto se effettivamente il decreto dignità aumenta la stabilità o appunto, come diceva l'avvocato Stucchi, il ricorso al turnover da parte delle imprese. Ma io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva adesso Stucchi, nel senso che il decreto dignità è un decreto concepito da dei gius lavoristi prestati al nuovo governo dalla parte di sinistra più ideologica ottocentesca di una parte del sindacato e che ha un'idea appunto del lavoro che non ha nulla a che fare con il lavoro attuale. Quello che ha sorpreso un po' tutti è questo dato di marzo, che è un dato effettivamente buono. Io non sto qui a dire quello che dicono in molti ma non lo dicono da un microfono per cui che rischiamo uno scenario greco non tanto dal punto di vista economico quanto dal fatto che quando i dati non funzionano si cambia il vertice dell'autorità indipendente di valutazione statistica. Ecco, io non penso che il dato di marzo dipenda da quello. Qualche sospetto viene anche perché noi abbiamo come sindacato due cose da fare che ci ha dato da fare il decreto di dignità. Intanto sentivo il panel precedente di questa idea del sindacato un po' retro, compagni alla lotta eccetera. Se generalizziamo il sindacato con quel sindacato allora io generalizzerei gli avvocati o generalizzerei le imprese con quelle che non tutelano la sicurezza. Generalizzare serve sempre a valorizzare la parte più retrograda di ogni ambiente per cui evitiamo le generalizzazioni. E noi in questo periodo abbiamo tantissimi lavoratori a termine che vengono nelle assemblee sindacali perché hanno paura. Perché da quando e da prima che entrasse in vigore il decreto di dignità è scattato un fenomeno di terrorizzazione proprio perché i vincoli di dire dai 36 ai 24 ai 12 senza causale significa accorciare la permanenza in azienda senza nessuna possibilità di andare verso un contratto a tempo indeterminato. Secondo, tutti parlano degli accordi che si fanno per bypassare l'articolo 18 che chiede sempre di solito la CGL e quello che prevede il Jobs Act. Nessuno racconta le migliaia di accordi che stiamo facendo in tutte le aziende per bypassare il decreto di dignità. Pensate cosa ci tocca fare. CGL, Cisleville e Confindustria fecero un avviso comune contro l'articolo 8 di Sacconi, vi ricordate? Oggi siamo costretti a utilizzare proprio l'articolo 8 e gli capita anche alla FIOM di firmare l'articolo 8 per riuscire a tenere le persone in azienda. Questa è una cosa di cui bisognerebbe parlare perché se la narrazione che si fa non riguarda anche le persone, non riguarda le centinaia di migliaia di ragazzi che quando sono stati aboliti i voucher sono rimasti a casa, le centinaia di migliaia di ragazzi che col decreto di dignità sono rimasti a casa, rischiamo di non far parlare un pezzo di mondo importante. Allora noi siamo di nuovo a, io lo dico sempre, c'è un'ideologizzazione sul dibattito che riguarda il lavoro in Italia che non c'è in nessun paese al mondo. Quando si parla di lavoro a somministrazione come nuovo caporalato è chiaro che chi racconta queste cose non sa nulla di lavoro perché spesso dove non c'è la somministrazione capita che ci sia veramente il caporalato vero e lì non ci sono possibilità di raccontarle queste cose. Un lavoratore a somministrazione ha anche i diritti non solo del contratto nazionale ma anche del contratto aziendale, ha tutti i diritti del lavoratore a tempo indeterminato, non tutti i contratti a termine li hanno. Allora bisognerebbe anche raccontare un po' più la differenza rispetto alla condizione. Se noi mettiamo insieme la narrazione che è stata fatta sul decreto dignità in combinato disposto con quota 100 e il reddito di cittadinanza è un disastro. È interessante quello che fanno i bancari sulla staffetta generazionale ma se guardiamo il centro nord dove sono uscite le persone con quota 100 altro che un'impensione tre assunzioni, tre in pensione zero assunzioni perché è stata utilizzata quota 100 per ottimizzare i processi e per ristrutturare in azienda per cui per fare lo stesso lavoro con meno persone. Allora per quello è importante riscoprire il ruolo della contrattazione ovviamente innovativa e non affidarsi sempre e costantemente a queste leggi che ogni sei mesi escono fuori. In dieci anni ci sono otto riforme del mercato del lavoro. Di per sé questo è un motivo per non investire in Italia. Chi è che investe in un paese che in dieci anni fa otto riforme del lavoro? La stabilità di una norma è uno degli elementi fondamentali per sapere come muoversi. Allora se sequestriamo alla politica con un ruolo più forte e più innovativo delle parti sociali sul piano contrattuale probabilmente recuperiamo un terreno che può essere più stabile e più forte sia per le imprese che per i lavoratori. Certo, sì sicuramente la questione della stabilità delle norme è un tema davvero importante e aperto anche perché questo governo poi non si sa poi insomma quanto andrà avanti se ci sarà una nuova riforma del lavoro e via dicendo. Io chiedo a lei dottor Ippolito quali erano in precedenza le funzioni del contratto a termine che veniva utilizzato in azienda e anche come vi state regolando con appunto il decreto dignità. Che strategia avete intrapreso? Sì, prima di risponderle volevo dire che mi fa molto piacere sentire parte sindacale da uomo di relazioni industriali, da uomo di azienda che ha questo tipo di approccio e confermo rispetto a quello che dice Bentivogli che vi è grande parte o comunque parte del sindacato con cui si può ragionare si possono trovare delle soluzioni che vanno al di là della normativa vigente. Ecco diciamo che infatti, scusi se l'interrompo, un aspetto positivo di questo decreto dignità è che ha portato delle alleanze che prima erano diciamo un po' inaspettate. Più che delle alleanze e dei ragionamenti ulteriori rispetto a quello che magari si faceva prima. Quindi per andare poi alla risposta e alla sua domanda, lei parlava giustamente di giovani, quindi prima di inquadrare qual è il tema e poi il problema, quando si parla di giovani in Europa si parla di ragazzi sino a 25 anni. In Italia anche in funzione della normativa rispetto agli incentivi si parla di giovani sino ai 35 anni, quindi parliamo di dieci anni in più di differenza rispetto al mercato del lavoro europeo. Dall'altro, ed è una premessa fondamentale dal mio punto di vista, si parla sempre di questa lotta tra tempo determinato e tempo indeterminato. È una continua agonia, diciamo così, che si traduce poi in norme che sono tra virgolette devastanti anche, possono essere anche devastanti per le imprese. Invece bisogna ragionare e quindi puntare anche su questi strumenti quali ad esempio il contratto a tempo determinato nell'ottica dei giovani perché si ha un approccio diverso adesso al lavoro che è basato sulla flessibilità, ma flessibilità significa non cesso un rapporto di lavoro con un determinato dipendente, nessuno o un altro, ma flessibilità significa anche fluidità nel mercato del lavoro. Dicevano prima in un intervento precedente, i giovani oggi non hanno più la necessità o comunque la voglia di permanere all'interno di un'azienda persino alla pensione, ma hanno anche necessità di muoversi. È in questo il contratto a tempo determinato, vecchia maniera, che aveva una durata effettiva ai 36 mesi. Adesso con il nuovo decreto la durata non è più 36 mesi, è 12 mesi, è inutile che si dica che 24 mesi, poi può diventare 36 perché si va davanti l'ispettorato a sottoscrivere eventuali clausole eccetera, è 12 mesi perché le aziende, quindi questa è la prima differenza, le aziende per evitare il contenzioso, non saranno contenti gli avvocati presenti, però per evitare il contenzioso si fermano a 12 mesi, punto, perché c'è la causalità. E questo cosa crea? Crea un problema fondamentale per i giovani, al di là dell'azienda, ma anche nell'azienda, di occupabilità, si parla sempre di occupazione, non si parla mai di occupabilità, cioè un ragazzo, perché qua lei mi chiede dei giovani, un giovane che ha l'opportunità di entrare in azienda anche con contratto a termine, prima era 36 mesi, in 36 mesi si poteva creare un curriculum anche professionale di un certo tipo e quindi muoversi all'esterno dell'azienda, ma poteva anche muoversi all'interno dell'azienda, invece adesso le imprese, siamo noi i primi a dirlo, abbiamo paura, cioè quindi quel dato di cui si parla secondo me è dopato, perché adesso vi è stata la corsa alla paura del contenzioso, quindi vediamo il dato fra qualche mese, vediamo il dato fra un anno, sempre che non vi siano modifiche normative, quindi quali possono essere le soluzioni? Le soluzioni aziendalmente, e questo è una cosa a cui credo fermamente, e noi la applichiamo come gruppo, infatti abbiamo fatto un'accordistica, qui le relazioni industriali, abbiamo fatto un accordo sull'isopensione, articolo 4, cioè l'uscita anticipata ai lavoratori, garantendo tramite accordo l'ingresso di giovani nel gruppo, parlo di centinaia di ingressi, parlo di un gruppo di 8 mila persone. Queste persone, questi ragazzi, nell'ottica del turnover sono stati assunti tutti con apprendistato, il 7% è vero, ma da noi è quasi il 100%, quindi può esservi anche un qualcosa di buono tramite la norma e tramite le relazioni industriali. Altro elemento, e vado a chiudere, è quello dell'articolo 8, perché è vero, utilizzare l'articolo 8 normativa del 2011, quindi questo, l'articolo 8 è in vigore, essendo anche colleghi di altre imprese che stanno muovendosi in tal senso, quindi confermo quello che diceva Ventivogli, in ultimo, ma non perché è di minore importanza, la somministrazione o meglio anche lo staff leasing, quindi gli strumenti per poter bypassare ci sono, li possiamo trovare nella speranza che comunque il decreto venga modificato. Certo, poi appunto lei faceva riferimento ai dati Istat che un po' a tutti insomma sembrano gonfiati e a questo proposito do la parola al dottor Cagliano che tramite la fondazione Studi Consulenti del Lavoro avete appunto un osservatorio sui dati sul mercato del lavoro e ci può dare una fotografia che anticipo è diametralmente opposta. Sì, innanzitutto buongiorno, prima di commentare i dati volevo solo fare una piccola premessa più che altro perché chi mi ha preceduto ha fatto delle osservazioni che mi sono piaciute particolarmente, perché all'interno del decreto dignità troviamo un principio fondamentale che è anche condivisibile, quello della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, poi però andiamo a vedere che la normativa di riferimento come è stato giustamente anticipato è cambiata notevolmente negli ultimi anni dalla legge Fornero al 92 2012 passando per l'81 2015 fino a arrivare al decreto dignità è stata una continua modifica della norma, io sono un consulente del lavoro quindi ovviamente assisto alle aziende e tutti ricordiamo lo scorso luglio, il 14 luglio entra in vigore il decreto legge che ha portato le novità in merito al decreto dignità, poi ad agosto altra conversione, cioè conversione in legge e a quel punto ci ritroviamo il periodo transitorio che inizialmente non era stato messo, quindi abbiamo dovuto assistere alle aziende spiegando adesso possiamo a determinate condizioni applicare quella che era la normativa precedente, quindi a questo punto poi arriviamo al primo novembre in cui effettivamente è entrato in vigore tutto quello che noi conosciamo e che oggi applichiamo, quindi probabilmente prima di pensare di stabilizzare i rapporti di lavoro dovremmo pensare di stabilizzare la norma di riferimento per dare anche più tranquillità a quei datori di lavoro che effettivamente sono coloro che investono in risorse economiche e sulle risorse umane. Andando a commentare i numeri, parliamo di numeri, i valori, devo fare una piccola premessa perché i dati che adesso citerò sono fonte dello studio dell'osservatorio statistico del consulente del lavoro e su dati IMS o dell'osservatorio sul precariato, quindi sono i dati non più affidabili ma sono dati certi e si fermano però a dicembre del 2018 perché ad oggi l'IMMS non ha rilasciato altri dati. Che cosa emerge nettamente? Che posto effettivamente un aumento e quello che cito sono un raffronto tra il 2018 e il 2017, un aumento di numeri di assunzioni a ottobre e novembre, a dicembre c'è stato un decremento totale, un decremento probabilmente anche caratterizzato dalla tipologia del mese perché dicembre di per sé è anche un mese dove si trova sistematicamente un numero maggiore di cessazioni di rapporti di lavoro dovuto anche magari alla fine di appalti, alla fine di progetti delle aziende, però quello che emerge cos'è? Che è vero, quello che viene detto, viene riportato su tutte le testate giornalistiche che i contratti a tempo indeterminato sono aumentati perché sono 24.557 in più, ma nell'ambito totale guardando tutti i rapporti di lavoro abbiamo meno 223.404 rapporti di lavoro, soprattutto questo si rimarca nei contratti ovviamente a tempo determinato che sono meno 145.000, influisce moltissimo anche la somministrazione meno 52.000 perché ovviamente la somministrazione patisce quello che è stato il fatto di essere stata equiparata a livello normativo a quello che è il tempo determinato, quindi questi sono numeri non diciamo sconfortanti anche perché bisogna anche specificare che per avere il quadro generale di quello che sarà l'impatto del decreto dignità sul mondo del lavoro dobbiamo almeno avere un anno di comparazione. Ho anche un altro dato, non voglio annoiarvi con i numeri ma questo ci può anche far capire un altro fattore, un dato statistico a livello di regioni e macro regioni, nel senso che il decremento che citavo prima è avvenuto in modo sostanziale in tutte le regioni, molte volte si pensa che il sud Italia sia più penalizzato invece, parlando che siamo in Lombardia quindi parliamo di nord ovest, in particolare Lombardia ha avuto meno 33.000 rapporti di lavoro e in generale il nord ovest meno 53.000, contro il sud Italia e per sud intendo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia che ha meno 49.000, quindi i dati sono molto simili, quindi questa è una problematica che interessa tutte le regioni del nostro paese, tutte le aziende ubicate in tutto il nostro territorio nazionale. Certo, quindi diciamo traducendo questi dati significa che molti contratti a tempo determinato sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato e per questo sono cresciuti e altri però non sono stati trasformati e non si sa poi che... Fondamentalmente possiamo dire che c'è stata una stabilizzazione di rapporti di lavoro preesistenti ma non si sono creati nuovi rapporti di lavoro che in teoria doveva essere quello, il principio cardine che era stato applicato al decreto dignità. Quindi la valutazione anche se sommaria e parziale che probabilmente il fine è sicuramente condivisibile, i mezzi utilizzati probabilmente non sono più idonei al tessuto imprenditoriale presente nel nostro paese. Certo, assolutamente. Bene, inizierei il secondo giro di questa tavola e mi concentrerei, abbiamo fatto cenno prima allo strumento della contrattazione di secondo livello per ovviare i limiti imposti dal decreto dignità e chiedo a lei, Avvocato Pepe, una riflessione rispetto a questi strumenti di deroga anche rispetto a quello che è la sua percezione dal lato delle imprese e dei lavoratori. Negli ultimi mesi dall'introduzione del decreto dignità una delle domande che più frequentemente tutti noi avvocati giuslavoristici sentiamo porre dalle imprese è come fare a recuperare spazi di flessibilità organizzativa all'interno dell'azienda. In questi mesi la fotografia che ne deriva ci rende un'immagine con l'applicazione di diversi istituti. Partiamo dallo staff leasing sdoganato dal Job Act, quindi la somministrazione a tempo indeterminato di risorse a tempo indeterminato. Questa sorta di somministrazione ibrida sdoganata questa volta dall'ultima circolare ministeriale del novembre 2018, somministrazione a tempo determinato di personale assunto dell'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato. E ancora il rapporto di lavoro intermittente. L'ambito a mio avviso più interessante però è sicuramente quello di cui si accennava prima, quindi il contesto sindacale. Sappiamo che il decreto degnità di per sé non ha dato totali margini di manovra agli accordi sindacali previsti dal Job Act, tant'è che la contrattazione sindacale dell'81-15 non può derogare oggi alle due problematiche principali. I 12 mesi di acausalità e l'introduzione di nuovi causali e la modifica delle tre causali esistenti. Però ci sono degli ambiti di intervento sindacale interessanti. L'accordo di prossimità in primis. Era interessantissimo quello che si è detto, cioè il fatto che oggi uno strumento così ostracizzato e visto con grande diffidenza quando è stato introdotto, di dubbio anche legittimità costituzionale. Il decreto di accordo di prossimità introdotto con la manovra di Ferragosto del 2011 per molto tempo non è stato poi così utilizzato. Oggi vive una nuova stagione e vediamo che comunque l'esperienza degli ultimi mesi ci dice che è applicato da nord a sud, vede nel comparto industriale forse il comparto che lo utilizza di più e normalmente che cosa prevede? La stabilizzazione di una quota parte del personale precario in azienda a fronte della liberalizzazione su alcuni temi in tema di durata della causalità nell'ambito delle nuove assunzioni. Quindi aumentando di molto il limite dei 12 mesi oggi esistenti. Un altro tema mi avviso interessante sempre a livello sindacale sono gli accordi sindacali territoriali in tema di stagionalità. Questo soprattutto nei comparti del commercio di pubblici esercizi. La stagionalità è uno dei temi che il decreto dignità non è andato ad intaccare, il lavoro stagionale. Ecco che quindi assistiamo a questi contratti territoriali che stanno andando a definire ed ampliare il concetto di lavoro stagionale e di contratto a termine legato appunto ai picchi di lavoro stagionale. Anche questo è uno strumento di intervento. Ora è comunque indicativo a mio avviso che le aziende nonostante i costi di queste iniziative, perché recuperare flessibilità con questi strumenti ha un costo rispetto agli incentivi che oggi ci sono per un'assunzione stabile. E i rischi, perché non dimentichiamo che il decreto dignità ha reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta. Una fattispecie molto ampia, la norma ci dice che basta all'intento fraudolento, è sufficiente che un'azienda abbia il fine di eludere una normativa di legge di contratto. Ora, che le aziende facciano tutto questo, sopportino, affrontino costi e rischi per speculare, per guadagnare profitto sulle spalle dei lavoratori, francamente a mio avviso non è un dato corretto. Secondo un rapporto di Union Camere, la vita media delle aziende italiane è pari a 12 anni in media, quindi oggi verrebbe da dire che sono le aziende a non essere più a tempo indeterminato. In questo contesto, a mio avviso, percepire gli strumenti di flessibilità come una volontà delle aziende di speculare sulle spalle dei lavoratori è un grosso pericolo, non solo per le aziende, ma soprattutto per i lavoratori che hanno bisogno di una normativa che recepisca i cambiamenti della struttura del mondo e del mercato del lavoro. Certo, quindi insomma ci sono degli strumenti che possono rendere più flessibile l'ingresso di lavoratori, ma comportano maggiori costi e rischi per l'azienda rispetto al contatto a tempo indeterminato, quindi c'è una sorta di trade off e in questo senso, Avvocato Stucchi, chiedo a lei qual è la sua percezione rispetto a questa riflessione e cosa vi chiedono le aziende? Allora le aziende trovandosi di fronte al decreto dignità si sono chieste come potevano continuare a fare impresa, venendo meno la flessibilità alla quale si erano abituate. La risposta è stata per fortuna che in questo quadro abbastanza sciagurato, una mano illuminata ha inserito la possibilità della contrattazione in deroga. Andando però a leggere la contrattazione, l'ambito della contrattazione in deroga e abbiamo visto che l'ambito era abbastanza ristretto perché le causali non si potevano toccare, i dodici mesi a causali non si potevano toccare. L'ABC della normativa non si poteva toccare con la contrattazione in deroga. In qualche modo questo sul decreto legge ha valere anche per la somministrazione. Poi in sede di conversione, probabilmente dopo le spinte di asso lavoro e quindi delle APL, abbiamo visto che l'ambito della somministrazione ha avuto un ampliamento delle possibilità di contrattazione in deroga e non per niente è stato firmato un contratto, un CCNL delle APL a fine anno dove le parti sociali hanno inserito tutta la derogabilità possibile e immaginabile. Oggi come ci troviamo? Che la contrattazione di secondo livello rispetto al TD non può fare più di tanto, uno strumento che può muoversi poco, viceversa la somministrazione a delle agevolazioni non indifferenti in ragione di questo nuovo CCNL. Cosa rimane? Il tanto vituperato accordo di prossimità, vituperato nel 2011 e che però oggi siamo costretti a riscoprire perché è quello l'unico strumento possibile e immaginabile. Certamente bisogna però fare i conti con tutta una serie di tipicità dello strumento, vale a dire, primo, i presupposti. Quindi nel momento in cui si vuole andare per questa strada bisogna fare degli sforzi di fantasia per strutturare i presupposti perché altrimenti qualcuno potrà dire no, il contratto è nullo in quanto che non ci sono i presupposti per fare ricorso a quella norma e quindi questo è il primo argomento. Secondo argomento è un tema di chi ci sta. Perché? Perché sappiamo che il sindacato oggi non è il sindacato, ci sono tanti sindacati che hanno degli approcci totalmente diversi. C'è chi, come la CISL qui presente, ha un approccio assolutamente laico alla tedesca ed è quello che ci vuole oggi. E invece c'è chi ancora oggi persegue politiche massimalistiche, è ancora legato a culture otto-novecentesche ed è la CGL principalmente. E allora ci troviamo che lo strumento, anche se molto bello, rischia a volte di trovare la firma non di tutti. Il più recente esempio che ho trovato è un accordo in prossimità della Philip Morris firmato da due sigle, la CISL e l'UGL. La CGL non c'è stata e anche la UIL, chissà perché, comparto chimici. Con questo accordo che cosa hanno fatto? Hanno esteso la A-causalità a 36, hanno ampliato la possibilità delle proroghe, hanno innalzato la soglia percentuale, perché anche quello è un vincolo non da poco. E cosa hanno fatto? Hanno reintrodotto, con accordo delle parti sociali, quelle realmente illuminate, quello che serve per fare impresa, quello che serve per l'azienda. Ripeto un concetto che ho detto prima, oggi l'interesse del lavoro deve coincidere con l'interesse dell'impresa, perché se muore l'impresa muore il lavoro. E questo è un concetto che purtroppo troppi italiani non vogliono capire, soprattutto quando hanno un approccio di tipo politico innanzitutto. E allora, qual è lo strumento al quale ricorrere oggi? E' certamente quello dell'accordo di prossimità, perché consente di utilizzare lo strumento del TD, con tutta la flessibilità del caso, perché è altrimenti noi ci troviamo che con la contrattazione di secondo livello il ricorso alla flessibilizzazione del TD è ridotto. E le aziende sono costrette a utilizzare la somministrazione. Però chi sta in azienda sa benissimo che a parità di FTE il costo di un TD è nettamente inferiore rispetto a quello di un lavoratore somministrato. Quindi la flessibilità in somministrazione e il ricorso alla somministrazione vuol dire un maggior incosto per le imprese. Questa è la realtà con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Quindi le aziende oggi più che mai chiedono di poter far ricorso allo strumento dell'accordo di prossimità. Bisogna però ricordare che va strutturato molto bene, tenendo conto anche che bisogna avere dall'altra parte un sindacato illuminato. Non sempre è così. Ecco, ben ti voglio. Come risponde a questa criticità sollevata dall'avvocato? Insomma, quindi l'accordo di prossimità può essere effettivamente uno strumento di flessibilità per le imprese, ma diventa decisivo anche il ruolo dei sindacati. Ma innanzitutto bisogna mettersi d'accordo su... Io di principio sono d'accordo che ci sono sempre più terreni sovrapposti, con delle sovrapposizioni positive tra il lavoro organizzato e chi rappresenta le imprese. Però bisogna anche fissare alcuni criteri. Va bene ragionare di flessibilità, però se serve a rafforzare il lavoro quello dignitoso. Perché se si ragiona solo di flessibilità passiva e non di quella attiva, non voglio uscire fuori tema, ma dove stiamo contrattualizzando lo smart working, l'azienda risparmia, i lavoratori sono contenti, aumenta la produttività. Però spesso le aziende non riescono a ragionare, a ripensare la loro azienda sulla base di un rapporto di lavoro più smart. Perché chi è chiamato a organizzare il lavoro ha ancora non tanto la necessità di mettere insieme il benessere delle persone, la produttività e coniugarli, conciliarli, quanto più questa necessità gerarchica di averli lì. E questo sta creando dei problemi grandissimi sulla produttività delle imprese. Invece pensate come sostenibilità ambientale. Un esempio. A Genova, perché gli italiani, questa solfa che siamo bravissimi quando siamo nell'emergenza, a me ha un po' stufato. A Genova, il gruppo Leonardo ha 1200 dipendenti. Grazie, sembra brutto dire grazie, perché è una cosa drammatica, grazie al crollo del ponte, c'è stato l'obbligo di ragionare sullo smart working. Dopo alcuni mesi di smart working ci si è accorti, 900 lavoratori su 1200 fanno una decina di giorni su 25 da remoto e ci si è accorti stranamente che la produttività è aumentata, i lavoratori sono più contenti, ma vi rendete conto un'azienda che è fallita se ha bisogno di un'emergenza per ripensare a come il lavoro si può svolgere, per cui di flessibilità io ragiono quanto volete, però guardiamo anche quella che serve al lavoratore, perché se è solo quella che serve a utilizzare la persona come il limone da spremere non sono d'accordo. Quello è assolutamente vero, c'è una flessibilità virtuosa e una buona virtù. Appunto, cioè se identifichiamo qual è la produzione, il prodotto, il target di mercato e qual è il lavoratore che serve, è un lavoratore che non è un lavoratore useggetta, il direttore del Politecnico di Teorio dice facciamo i lavoratori plug and play, no per favore aspetta, stai calmo, no? Cosa voglio dire per raccogliere la sfida di Stucchi? Diamoci del tuo, attenzione che molto spesso sono le associazioni datoriali che hanno paura a fare queste cose. Io ho proposto all'associazione industriale di questa provincia, spero non si offenda nessuno, di fare in deroga al contratto, al decreto dignità, un accordo territoriale e l'associazione industriale di Milano è l'associazione industriale più coraggiosa d'Italia, però pensate a farlo a livello territoriale quanto diventa utile la nostra rappresentanza. Io mi occupo di non lasciare da soli migliaia di lavoratori a termine, l'associazione industriale si occupa di non lasciare solo le aziende, uno a uno, ragionare col consulente, posso far questo, posso far quell'altro, posso... e dare un ambito territoriale di ragionevolezza in cui si alza il punto d'incontro tra sindacato e impresa. Non se ne è fatto nulla neanche qui, forse lo faremo di nascosto in Sardegna a Siracusa e sono queste le relazioni industriali virtuose, cioè sulle deroghe contrattuali nel contratto nazionale dei metalmeccanici, alla fase finale della trattativa, io ho insistito perché si potessero fare le deroghe territoriali anche senza tutti i sindacati, rispettando il testo unico. Sapete chi è stata contraria oltre alla FIOM? Federmeccanica. E di che parliamo? Allora, quando c'è sempre questa idea che il sindacato è quello mediatico che dice no a tutto, eccetera. Questa è una cosa che fa piacere così a chi non fa relazioni industriali, ma chi ha coraggio incontra altrettanti soggetti che hanno coraggio. Con questo diamo ancora ruolo alle relazioni industriali. Se continuiamo a morire di riti e facciamo gli accordi sul fatto che l'acqua bagnata e il cielo è blu, è ovvio che diventeremo sempre più inutili. Su questo però noi abbiamo fatto tante cose nella tanta viduperata FCA, CNHI e Ferrari, c'è qui in giro Vincenzo Retus, su cui l'esigibilità della contrattazione è una cosa seria. Perché non riusciamo a farla con Confindustria? Allora c'è un po' troppo un punto d'incontro che non è virtuoso spesso, è più consociativo tra la parte più deteriore del sindacato e la parte più cerchio bottista delle associazioni e delle imprese. Ma così appunto sanciremo nero su bianco che l'acqua è bagnata e il cielo è blu e servono delle parti sociali per scrivere queste cose rivoluzionari. Certo, certo. Quindi manca un'iterità di intenti da ambo le parti. Prego avvocato. Una parola velocissimamente. Sono tanto d'accordo con te che se ho invocato un sindacato alla tedesca, devo dire alle aziende che devono superare l'atteggiamento padronale. Cioè il padrone che è convinto di poter decidere tutto e di sapere solo lui qual è il bene dell'azienda. È un'ottica vecchia. Vecchia. Deve confrontarsi con gli altri fattori. La proprietà è un fattore. Il lavoro è un altro. Se il bene è comune, è comune, è di tutti. Perché Confindustria prende questo atteggiamento? Perché voi fate gli accordi quelli giusti con le aziende più grandi? Perché le aziende più grandi sono depadronalizzate. Sono quasi public companies. E quello è il punto. Confindustria. Quanti esponenti sono nominalmente titolari di azienda. Qualcuno ha ancora il nome dentro nella S.P.A. proprio per parlare di Assolombarda. È chiaro che l'approccio è ancora padronale. Ma è un fatto di cultura questo. Cioè siamo nel terzo millennio. Bisogna andare oltre. È inutile continuare a invocare la Germania giusto per riempirsi la bocca. L'erba è verde, il cielo è blu. E poi continuare a ragionare con la testa e i piedi nei secoli passati. È inutile. Se si vuole la flessibilità unilaterale non si va da nessuna parte. Nessuna parte. Si continua col vecchio conflitto sociale. Peccato che oramai Carlo Marx è portatore di una teoria che la storia ha detto essere perdente. Bisogna andare oltre. ci vuole Bad Godesberg arrivare a concetti di social democrazia e di bene condiviso alla tedesca. Però bisogna fare un salto culturale e sperare in un cambiamento del governo. Bene, grazie avvocato. Mi scuso se la interrompo ma si avvicina l'ora del lancio. Quindi dobbiamo chiudere. Chiedo a lei, dottor Ippolito, se vuole fare una riflessione finale. Prego. Volevo dire alcune piccole cose. Innanzitutto, anche per fare una battuta a ventivogli, voglio dire che sì, è vero che le aziende non sono sempre smart, ma proprio per citare lui e quello che scrive nel suo libro, anche il sindacato ogni tanto, o ancora di più, deve essere smart per dare la possibilità anche alle aziende di avere un interlocutore proprio più, scusando la ripetizione, più smart per arrivare a delle soluzioni che siano positive. Questo è fuori di dubbio. Ma non faccio questo, non dico questo perché voglio essere il difensore dell'azienda, ma perché è un dato di fatto. Perché oltre al sindacalismo, diciamo così, che si fa e che facciamo tutti anche a livello centrale, poi è un sindacato territoriale che magari, e vi sono degli esempi concreti che posso anche portarvi, che forse è anche un po' restio al cambiamento. Ma al cambiamento vi porto degli esempi banalissimi. Però poi abbiamo trovato anche delle soluzioni, sempre col sindacato, quindi sembra quasi che mi contraddica, ma è così. Quindi dietro un ragionamento, dietro una relazione umana che è la base delle relazioni industriali, delle relazioni sindacali, siamo arrivati a delle soluzioni. Però siamo partiti da un tema. Faccio un esempio banalissimo. Abbiamo consegnato, noi abbiamo 8.000 dipendenti di cui circa il 60% sono operai. Abbiamo consegnato a tutto il personale, tutto, lo smartphone, con delle applicazioni anche per autenticarsi all'ingresso al lavoro, eccetera, eccetera. Oltre a questo agli operai abbiamo dato anche il tablet per eseguire la propria prestazione lavorativa, mi riferisco soprattutto nel settore elettrico e del gas acqua. Il tema principale, iniziale, che ha posto l'organizzazione sindacale, o comunque quello che è venuto fuori al tavolo, è stata la logica del controllo. Quindi voi volete questo perché ci volete controllare. No, è nell'ottica del miglioramento dell'azienda. Cioè se anche parte sindacale, non voglio generalizzare, e poi lo ha capito, tant'è che abbiamo firmato, oltre all'accordo per l'articolo 4, ma anche altra accordistica, quale lo smart working, che ci ha portato quindi a ragionare in maniera diversa, nell'ottica delle competenze, dello sviluppo delle competenze, perché un lavoratore deve ragionare anche in quest'ottica, cioè nella volontà di restare al passo col tempo e quindi poter essere occupabile all'interno della stessa azienda. Il tutto, e concludo, è stato fatto anche nella logica della produttività aziendale, perché competenze, cambiamento, digitalizzazione, anche se, mi rifaccio un po' a quello che diceva Hortensi, è un processo digitale, almeno nella nostra realtà, sostitutivo, non è di cambiamento, però già è un inizio, è un cambiamento. Quindi abbiamo agito anche tramite il premio di risultato, tramite il premio di risultato, che porta i giovamenti anche all'azienda, in termini di detassazione e decontribuzione, ma anche al lavoratore, perché ha più soldi in busta paga, diciamola tutta. Quindi, agendo in questa logica qui, con un sindacato accorto, mettendo dei progetti sfidanti al fine di raggiungere il risultato aziendale, siamo riusciti a trovare delle soluzioni positive, che vanno dalla retribuzione detassata, decontribuita, al welfare aziendale, che può incidere sulla formazione, e a una crescita della produttività aziendale. Quindi, nell'ottica del ragionamento, e concludo, puntare al cambiamento, puntare al cambiamento anche tramite le relazioni industriali, non solo tramite la normativa, o meglio, utilizzare la normativa come supporto per delle buone relazioni industriali, per agire da un lato sulla produttività aziendale, dall'altro sulla meritocrazia, e dall'altro ancora sulla crescita dei lavoratori, e quindi uno sviluppo e le competenze per un'azienda che non deve guardare all'anno prossimo, ma deve guardare i prossimi 10, i prossimi 20, i prossimi 30 anni. Certo. Dottor Cagliano, qual è la sua impressione rispetto a questo tema? Fondamentalmente credo che per incentivare l'occupazione, per dar più lavoro ai giovani, per portare un cambio di mentalità, si deve innanzitutto diminuire quella che è la pressione fiscale e la pressione contributiva sulle aziende. Quando parlo però di contributiva, non mi fossilizzo soltanto sulle agevolazioni che sì sono importanti, ma sono temporanee. Molte volte vediamo agevolazioni, lei l'ha menzionato prima, il concetto del bonus under 35, che ha portato la legge di bilancio del 2018, poi il decreto dignità, ne ha riportato uno nuovo, uguale a quello precedente, under 35 per due anni. Qual è il paradosso? Che ad oggi non c'è ancora il decreto attuativo. Ha portato il bonus sud, peccato che doveva finanziarlo Ampal, perdonatemi, l'ha finanziato la legge di bilancio, doveva passare per un decreto attuativo di Ampal che l'ha fatto partire però da maggio. E le aziende che hanno assunto da gennaio a maggio che fanno? Perché avevano messo già a budget comunque la decontribuzione. Quindi fondamentalmente non si può basare la possibilità di aumentare le assunzioni dei lavoratori soltanto su una decontribuzione o comunque un abbassamento temporaneo dei rapporti di lavoro. Ora so che il tempo è poco, citerò velocissimamente di altri numeri ma perché abbiamo fatto uno studio, di nuovo il nostro osservatorio statistico, delle assunzioni degli under 35 e degli under 30 negli ultimi dieci anni che come ben sappiamo sono stati ricchi, i vari legislatori che si sono susseguiti in questi anni hanno portato tantissime agevolazioni per l'assunzione dei giovani. Qual è il dato allarmante? Che nel 2009, quindi dieci anni fa ormai, erano 668.000 le assunzioni di under 35, quest'anno sono state 464.000, sono state di meno nonostante ci siano più incentivi. Gli under 30 nel 2009 408.000, quest'anno 274.000. Ma la cosa ancora più preoccupante è che d'oltre il 2015, che è un anno atipico, perché se vi ricordate c'era stata la legge di bilancio che aveva portato l'assunzione triennale, quello con lo totale è fino a 8.060 euro, quindi avevo portato un boom di assunzioni, però un boom di assunzioni in cui si erano stabilizzati i rapporti di lavoro preesistenti, non nuovi rapporti di lavoro, il 2016, 2017, 2018 e 2014 hanno tutti più o meno gli stessi dati sulle assunzioni degli under 35 e degli under 30. Quindi questo cosa ci dimostra, cosa ci insegna? Che per le aziende è importante sicuramente l'abbassamento del costo, interventi strutturali, ma non interventi normativi, perché i dati che ho appena elencato velocemente per ragioni di tempo ci dimostrano che le aziende, che nuovi posti di lavoro non si creano con interventi normativi, ma creando condizioni sostenibili per le imprese. Certo, grazie, io vi ringrazio, è stato davvero interessante, ci sarebbe spazio per ulteriori riflessioni, ma purtroppo il tempo non è dalla nostra parte. Grazie di nuovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.